L'animazione, il movimento, dalla carta al digitale, la costanza di un lavoro, la pausa un bicchierino di vino, il caffè, la sigaretta, l'interminabile lavoro, conoscenza del mezzo, concentrazione, completa concentrazione scadenza consegna è tempo di riscossione monetaria non c'è paga questa volta il cliente ha sempre ragione sarà per la prossima volta non c'è è Grazie a tutti.